Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla E siamo tornati su Kingdom Hearts Siamo sempre in compagnia del nostro amico Terra E come potete vedere io sono ritornato nei tre mondi Questi Perché mi sono dimenticato alcune casse E le ho rifatti alcuni Quei li ho trovati tutti E qua non so perché però non mi fa andare in una zona lì della foresta Qui non mi fa entrare in casa Quindi non ho idea di come prendere gli ultimi così Quindi boh Però sono qui per mostrarvi l'arena Miraggio Però guardate un po' il livello a cui sono ora 17 E ho fatto anche le unioni dimensionali E come potete vedere mi manca solo l'ultimo cosa di Cenerentola E dovrei riuscire a fare un'unione dimensionale nuova Perché qui abbiamo Malefica Forma Drago e Malefica Normale E poi i risvegli di Acqua Armatura Essenza E ovviamente quella di Ventus Che poi dovrò fare anche con gli altri due Ma con calma E visitiamo l'arena Miraggio Si ci sono già stato eh In vostra assenza qui però So che qui Ci dovrete venire con terra Se volete ottenere una pagina di diario di Ezeanort E non so se è la prima missione che dobbiamo compiere O tutte quante Round 1 Furia Ah a proprio Ah qui non vanno i Non funzionano le cose qua eh Occhio Le unioni di qui non funzionano Boom Tutto sommato E' abbastanza semplice Vabbè che è di livello 1 eh Però Ero venuto qui la prima volta per farci un giro E' per quello che non è venuto fuori L'animazione dell'arena Miraggio Se no vi faccio vedere le magie Che hanno le unioni dimensionali Ok Andato qua Aumentiamo di livello anche i cosi I comandi Blizzard Qua così Diamo un polvere Avendo Utilizzato Blizzard Round 3 Thunder Ok ci sono questi Mo I più fastidiati sono i cicciottoni panzoni Appunto Contro l'aereo Boom Visto Leader fatale Muori E tu anche E' un maicuro Dove sta ne Ah perché mi sta mirando quello Bam Ho colpito qualcuno almeno No Perché questo sta volando Leggiamo l'ultimo ciccione qua I corvacci Dovebbe essere lui Dov'è l'altro E' là Boom Non fai più lo spavato eh Eccoci qua E ma c'è il boss Eccolo qua Oh Eh ma perché Quando spuntano da terra Io li odio Aia Wow Wow è all'ultima tacca raga colpendo l'avversario sbagliato era la gabbia all'ultima tacca non lui wow aia aia ma non li posso vedere aia appena in tempo mi son curato aia quanto lo odio questo coso si perchè non è difficile come coso eh come boss anzi battuto hai vinto ok e l'abbiamo ottenuto ah no allora devo fare un altre missioni per ottenerlo dovremmo fare oh madonna dovremmo farle dovremmo farne tre mi sa eh o devo completare il livello vabbè farò più cose più avanti comunque qua dovrete portare terra se volete ottenere perchè dovete ottenere tutte le pagine del del coso dei diari di xehanort detto questo andiamo avanti e vi mostro il la torre misteriosa visitiamo la torre misteriosa topolino alakazam alakazam cioè il topolino non si è accorto di di terra ottimo misterius tower la torre misteriosa ok energia farmiamo a me se non ci fosse un domani boom ed ora aspettate eh unione con cenerentola bar lume sorpresa o no devo riuscire a trovare un altro pezzo lì di oggetto che eccolo lì olè che a me mancava abbiamo anche il risveglio una lettera che non so mai a che cavolo servono queste lettere e ho tutte le unioni di praticamente con i risvegli almeno con terra cristallo vigore qui fuori abbiamo aperto tutto entriamo mappa sicuro no ricetta davvero mi sono sbagliato qui non c'è niente andiamo sopra maestro 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 mi sono terra sì ericus pupilla l'ho aspettare l'ho è l'un vero Yes, Master Yen said I thought it best to seek the counsel of one wiser than myself I am no longer a master I doffed that mantle But sir Wasn't that your pupil I passed on the way in? He had a keyblade You refer to Mickey He too sought guidance here As a king he is good and kind But the weight of a crown has not cured him of impetuousness He has left with an object to his power he does not understand nor know how to control Mickey imagines my star shard will be of help in his current quest And like you He is eager to use his keyblade to set things right I'm not sure I even understand what's wrong Master Xehanort is missing And now I've learned There's a masked boy who is controlling those unversed on the loose To arrive at the truth Perhaps you should approach things differently First consider them one and the same problem Master Xehanort and the unversed are connected somehow? I must not make assumptions Find Xehanort, Terra That is where you should begin Si, si, sapessimo dove lo troveremo Yes, sir I had hope to Xehanort Your heart would no longer lead you astray Ed ecco Terra Terra Master Xehanort Terra Come see me at once Alla ricerca della verità Trofeo guadagnato Ah, lì dobbiamo andare Molto bene ragazzi Direi che per oggi possa essere tutto La prossima volta ripartiremo da qui Io come sempre vi invito a lasciare un bel like A commentare, condividere, iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E alla prossima Ciao belli